Buongiorno, qualche tregua il tempo tutto sommato la concede, però possiamo confermare che di tempo stabile, a lungo, come si comincia un po' ad aspettare, in realtà non ce n'è. Qualche pausa un po' più ampia ci sarà agli inizi della settimana, ma questo fine settimana, a partire da oggi, ci saranno delle zone con schiarite più ampie, però tempo stabile non ce n'è. Se vediamo cosa è successo nelle ultime 24 ore, abbiamo già un'idea anche di quello che ci aspetta. Questa prima immagine si riferisce a ieri, a quest'ora, quando quel flusso che era arrivato da sud ovest, poi in realtà si era chiuso in una circolazione di bassa pressione fra il Tirreno e poi l'Adriatico, dando questa strisciata di nuvole che interessava con delle piogge, sia alcune zone del nord, del centro e del sud. Fra parentesi, guardate che zona di Sereno che c'è fra la penisola iberica, parte della Francia e l'Atlantico e forse in questo quadro si riesce a vedere sulla cartina queste piccole macchiette in mezzo all'oceano, che sono le famose azzorre. Quindi c'è un anticiclone delle azzorre, però non è abbastanza esteso verso il Mediterraneo centrale da darci tempo stabile, quindi non è che non esista, è un pochino sottotono e ce ne accorgiamo. Cosa succede nelle ore successive? Che queste nuvole, ruotando, riprendono parte del nord, poi si ritrovano di nuovo al centro, dando ancora fenomeni, piogge e qualche temporale. In serata, continuando questa rotazione, si allontanano un poco, però guardate come rientrano altre nuvole sulle regioni settentrionali. Durante la notte procede questa situazione, quindi migliora il tempo sia al centro che al sud e rientrano invece delle nuvole per quello che riguarda il nord. L'ultima immagine, che è quella di questa mattina, ci dà la stessa situazione. C'erano dei temporali sulla Liguria di Levante questa mattina, qualcuno fra la Venezia Giulia e l'Istria, ma vedete che queste nuvole ci sono. Ora il peggioramento, ne abbiamo già parlato, quindi non è che sia una gran sorpresa che ci sarà nella giornata di domani. Non è dovuto tanto a queste nuvole che si attenueranno, ma a questa nuova perturbazione che, seguita da aria fredda, scenderà verso il Mediterraneo e questo ci dà anche un po' l'idea di cosa succederà alle temperature. Previsioni per la giornata di oggi, confermiamo quella fatta ieri. Piogge residue sulle regioni di nord-est e già schiarite su quelle di nord-ovest, dove però in serata o fra la serata e la notata si affacceranno delle altre nuvole. Quello sarà il peggioramento di sabato. Sulle altre regioni, un cielo poco nuvoloso, qualche nuvola in più nel pomeriggio, specie sulle zone interne, sull'Appennino centrale e meridionale c'è, ci può essere anche qualche pioggia, però è una giornata in qualche modo che possiamo definire tranquilla. Per quello che riguarda i venti oggi non sono particolarmente forti, i rinforzi ci sono su parte del Tirreno e sul mare di Corsica e poi ancora sull'Adriatico settentrionale. Quello che conta di vedere è la rotazione nord-ovest-ovest-sud-ovest, quindi rotazione anti-oraria e questo ci dice che oggi potrebbe essere una giornata tranquilla ma non è tempo stabile, quindi dura poco, non è affidabile in qualche modo. Vediamo la giornata di domani, il peggioramento prende tutto il nord, mirando poi in qualche modo a concentrarsi sulle zone di nord-est. Qualche pioggia prende anche le zone centrali, arriva in Campania, prende Corsica e gran parte della Sardegna. Spesso ci sono annuvolamenti più intensi nel pomeriggio sulle zone interne, sull'Appennino dove è più facile che piova, qualche breve pioggia può arrivare anche sulle coste. Tendenzialmente non è un tempo perturbato, è un tempo incerto e quindi più di questo diciamo che non si va. Giornata di domenica, c'è in realtà un altro arrivo di un'altra perturbazione che però dovrebbe dare solo un po' di instabilità che si attiva nel pomeriggio. Ecco perché il quadro sembra un po' più leggero delle piogge sulle Alpi nord-orientali, poi segnate le piogge lungo l'Appennino da nord a sud, quindi una giornata di tempo sicuramente non particolarmente stabile, però fra sabato e domenica, proprio dovendo scegliere, mettiamola così alla brutta, fra sabato e domenica, domenica potrebbe essere un poco peggio. Da oggi le temperature sono in discesa al nord, poi al centro, infine al sud, come dicevo questa mattina, i valori in assoluto non sono bassissimi, però è chiaro che per essere fine maggio, insomma, qualcosina di più ci si aspetterebbe. Noi se volete ci vediamo più tardi all'interno di Coffee Break, adesso Omnibus condotto da Andrea Pancani. Arrivederci.